in programma lunedì la seduta dell'organo di indirizzo della fondazione caricev che dovrà scegliere il successore dell'avvocato cacciaglia ancora un giovane spacciatore in manette si tratta di un 22enne civita vecchiesa arrestato dagli uomini del commissariato di polizia partenza col botto per la petizione che chiede definitiva chiarezza sugli usi civici questa mattina al mercato raccolte centinaia di firme appuntamento settimanale col sonetto di pasquino che questo sabato torna a parlare della sua amata città e delle elezioni del prossimo anno dopo morrison sarà ancora inglese lo straniero della stemar 90 cestistica per la prossima stagione si tratta del lungo jonathan fulz buonasera e bentrovati lunedì prossimo l'organo di indirizzo della fondazione cassa di risparmio di civita vecchia sarà chiamato a scegliere il successore del compianto avvocato vincenzo cacciaglia sia all'interno del consiglio di amministrazione che al vertice dell'ente all'ordine del giorno figura infatti anche la nomina del nuovo presidente della fondazione il servizio ancora 48 ore e la fondazione cassa di risparmio di civita vecchia potrebbe avere il successore del compianto avvocato vincenzo cacciaglia per lunedì alle 11 e 30 nella sede di via risorgimento ha infatti convocato l'organo di indirizzo dell'ente all'ordine del giorno della seduta la nomina del componente che sostituirà cacciaglia all'interno del consiglio di amministrazione e al vertice dell'ente mentre però per quanto concerne la scelta del consigliere del cda non dovrebbero esserci problemi qualche approfondimento in più potrebbe invece rendersi necessario per la scelta del nuovo presidente l'organo di indirizzo è composto da 13 membri diventati adesso 12 dopo la scomparsa dello storico presidente non dovrebbe quindi essere difficile trovare un'intesa sul nuovo massimo rappresentante ma a quanto sembra al momento non sarebbe stata trovata un'intesa tra le diverse componenti che compongono l'ossatura della fondazione in lizza per succedere a cacciaglia c'è ovviamente l'attuale vicepresidente gabriella saracco che nelle ultime settimane ha di fatto svolto il ruolo di presidente nelle ultime ore sarebbero però usciti fuori anche i nomi dell'attuale direttore generale franco passeri e del socio carlo falsetti non si esclude tra i papabili successori di cacciaglia anche l'avvocato umberto zoli storico componente dell'ente e profondo conoscitore al pari di falsetti non solo dell'universo fondazione ma anche del sistema bancario insomma due giorni dalla seduta dell'organo di indirizzo l'ente non sembra ancora pronto a scegliere il nuovo presidente più facile dovrebbe invece essere la scelta su chi affiancherà gli attuali consiglieri valentino carluccio gabriella saracco giorgio venanzi e massimo pinti le prossime ore saranno comunque decisive e c'è da scommetterlo piene di incontri e trattative per poter arrivare alla fumata bianca oltre tre chilogrammi di asci e circa 20 grammi di marijuana sono quelli che sono stati scoperti ieri dalla polizia a casa di un 22enne civita vecchiese già noto agli investigatori e fermato dai poliziotti mentre si trovava a bordo della propria autovettura durante il controllo il 22enne si è dimostrato da subito eccessivamente nervoso e agitato tanto da far intuire agli agenti che volesse eludere i controlli soprattutto evitando che potessero estendersi alla propria abitazione ed è proprio a casa del ragazzo che sono stati rinvenuti abilmente nascosti all'interno di uno zaino riposto in un armadio gli oltre tre chilogrammi di asci e circa 20 grammi di marijuana oltre alla droga gli agenti della polizia di stato hanno sequestrato anche un bilancino di precisione un coltello e materiale per il confezionamento dell'ingente quantitativo che una volta trasformato in dosi avrebbe fruttato tra i 18 e i 20 mila euro il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Borgata Aurelia a disposizione dell'autorità giudiziaria a poco più di un giorno dai termini previsti dalla scadenza del bando rischia di andare deserta anche l'ultima asta fallimentare riguardante la vendita dell'interporto di Civitavecchia la FM Logistics la società francese interessata all'acquisto e che aveva chiesto uno slittamento dei termini per approfondire alcune situazioni potrebbe infatti non partecipare alla gara un allarme a riguardo arriva direttamente dal massimo esponente locale dell'UGL Fabiana Attig in servizio Sono ore decisive per il futuro dell'interporto di Civitavecchia lunedì prossimo scadono i termini per la presentazione delle offerte per l'ennesima gara riguardante il fallimento della piattaforma logistica si tratta dell'ultima asta bandita dal giudice e dal curatore fallimentare qualora infatti non si registrassero offerte non potrebbero esserci più possibilità di acquisto del bene e preoccupazioni al riguardo vengono espresse da Fabiana Attig la responsabile territoriale dell'UGL rivela che la FM Logistics la società francese che dallo scorso febbraio si era fatta avanti e che aveva anche chiesto uno slittamento concesso dal giudice di 60 giorni dei termini per la scadenza della gara sarebbe intenzionata a non partecipare Attig critica Palazzo del Pincio titolare della concessione che a suo giudizio ha consentito agli attuali gestori un uso improprio della piattaforma logistica come lo stoccaggio di autovetture nuove attività sostiene che rende diseconomiche le operazioni di carico-scarico e operando senza le certificazioni il rispetto delle norme di sicurezza previste di legge per le persone e per le merci questi secondo Attig sarebbero i motivi e non tutti per cui la FM Logistics non sarebbe intenzionata a partecipare all'asta non avendo peraltro riscontrato alcuna volontà negoziale sulla concessione da parte del sindaco Cozzolino per la segretaria UGL che sottolinea come le credenziali della società francese non siano da porre a paragone con quelle degli attuali gestori il canone poi risulta fuori mercato a scapito sia della struttura stessa ma anche del diretto beneficiario ovvero il comune insomma secondo Attig c'è il rischio concreto che si perda definitivamente la possibilità di affidare la struttura ad operatori seri, validi e verificati di nota competenza e non improvvisati o governati da interessi particolari e da conflitti di interessi sicuramente conclude non collegati con chi di mestiere fa altro dal logistico e pensare come qualcuno va già dicendo che per salvaguardare i livelli occupazionali basta creare una cooperativa ad hoc sbaglia di grosso Noi siamo scesi in campo subito per ascoltare i cittadini il centrodestra resta unito attorno a Massimiliano Grasso Forza Italia, Fratelli d'Italia, La Svolta, Forza Civita Vecchia e cuori italiani rispondono all'esponente della Lega Alessandra Riccetti sulla scelta del candidato a sindaco da sostenere per le prossime elezioni amministrative Secondo i partiti del centrodestra Grasso è stato scelto tutti insieme a partire dalla Lega per competenza, coerenza e costanza nel suo impegno e nelle battaglie condivise da tutta la coalizione Su una cosa siamo d'accordo con Riccetti affermano i partiti di centrodestra è giunto il momento che le persone di buona volontà che veramente tengono al futuro della nostra città scendano in campo Per questo ci chiediamo perché la Lega non sia ancora in prima fila insieme a noi chi o cosa bisogna ancora aspettare soddisfazione per il ritorno alla città della Frasca ma anche preoccupazione per il suo futuro il direttivo del Polo Civico alla luce della comunicazione pervenuta dal sindaco Cozzolino che l'Arsia l'ha manifestato l'intenzione di trasferire le competenze della Pineta al Comune chiede in particolare se l'autorità portuale sarà ancora in grado di mantenere gli impegni assunti in precedenza per finanziare la valorizzazione complessiva del territorio cui è tenuto a titolo di compensazione per le opere portuali realizzate nel tempo È iniziata questa mattina presso il mercato di Piazza Regina Margherita la petizione riguardante gli usi civici promossa dal Comitato Omonimo di Cittadini in poche ore sono state raccolte già oltre 200 firme il Comitato non si ferma e punta ad arrivare a 5.000 ascoltiamo l'intervista a Vittorio Petrelli Vittorio Petrelli, dalle parole siete passate ai fatti da questa mattina a petizione per quanto riguarda gli usi civici come sta andando? Guardi, sta andando bene diciamo la verità, c'è anche alcune persone che non sanno del problema e quindi stiamo informando i cittadini però ieri il lancio che è stato fatto pubblicamente anche attraverso la vostra emittente abbiamo visto, constatato che alcune persone sono venute spontaneamente a firmare siamo dopo due ore di raccolta a 200 firme è un ottimo successo e ci auguriamo che questo possa essere di monito soprattutto per le istituzioni che devono prendere una decisione di giustizia nei confronti di questa vicenda che veramente grida vendetta A quante firme sperate di arrivare? Ma l'obiettivo è 5.000 firme siamo nel pieno dell'estate però se è informato, chi è informato capisce dell'ingiustizia che tutti quanti siamo oggetto in particolare chi abita in quelle zone ma tutti quanti perché sapete che chi oggi vuole comprare o vendere comunque deve produrre un certificato il cui costo è 100 euro e questo non ha nessuna giustificazione in alcuna legge italiana fino a quando andrà avanti la redizione dove si potrà firmare? Allora, sapete che questo comitato è formato soprattutto anche da liberi cittadini o da agenzie immobiliari le quali esporranno sulle proprie porte il volantino che è possibile firmare noi andremo avanti fino al 21 novembre quindi ci auguriamo di avere un numero massiccio di persone vi invitiamo a venire a firmare perché la questione è veramente grave sentiamoci comunità per difendere le nostre proprietà responsabile della commissione decoro urbano del circolo Giorgio Almirante di Fratelli d'Italia Daniele Leoni ha protocollato in comune una lettera nella quale vengono evidenziate le situazioni di criticità riguardanti il decoro urbano elencate sulla base di un monitoraggio e delle segnalazioni pervenute dai residenti delle varie zone di Civitavecchia per Fratelli d'Italia anche in questo settore l'amministrazione comunale in quattro anni ha ottenuto risultati assolutamente inadeguati ed insoddisfacenti contribuendo a peggiorare il decoro della città il circolo di Fratelli d'Italia evidenzia che non si è comunque limitato a segnalare le criticità ed inefficienze ma ha approfondite le problematiche del settore dialogando con gli operai e con l'amministrazione di CSP Deleva la Regione Lazio ha convocato un tavolo tecnico per affrontare le tante vertenze occupazionali che si stanno aprendo nel porto di Civitavecchia l'ultima quella relativa alla CFFT ha fatto scattare l'intervento della Pisana come spiega il consigliere di maggioranza Geno De Paulis in questa intervista in cui commenta la preoccupazione degli operatori per i possibili sviluppi della vicenda e lo scarico dei container della frutta sentiamo Consigliere regionale Geno De Paulis Enrico Luciani il presidente della CPC ha chiamato direttamente in causa anche stavolta la Regione che si sta facendo Non è casuale il fatto che io sono qui oggi è chiaro che la preoccupazione emerge da una serie di non so se sono coincidenze comunque da un momento nel quale tutti i noti stanno vedendo al pettine all'interno del porto c'è una difficoltà una difficoltà oggettiva rispetto a una richiesta di mantenimento di lavoro e di una richiesta di sviluppo soprattutto perché chi ci lavora è giusto che tuteli il suo diritto e chi non ha lavoro noi avendo fatto già una scelta da città che potrebbe essere turistica città industriale abbiamo solo quelle risorse lì quindi con Enel è successo quello che è successo e l'abbiamo affrontato a livello comunale col tavolo e regionale soprattutto e sembra che si stia andando avanti perlomeno nei dialoghi nei colloqui con quest'altro problema che è un problema di rilevanza strategica anche all'interno del porto la regione è giusto ha ragione il presidente della compagnia portuale la regione deve fare anche questa volta la sua parte mi risulta che c'è un tavolo già convocato affronteremo il problema a quel tavolo l'assessore Alessandri è assolutamente già messo informato della situazione vediamo quello che si può sviluppare all'interno del tavolo lunedì prossimo alla Repubblica dei Ragazzi partirà un nuovo progetto si intitola Voci spiegate e fa parte del circuito creato dalla Street Art Academy l'iniziativa punta a sviluppare il lato creativo ed espressivo degli studenti attraverso una serie di laboratori incentrati sul rap e la cultura hip hop docente del corso sarà chiave uno dei rapper più apprezzati nel panorama nazionale attraverso una serie di incontri l'artista fornirà ai ragazzi i mezzi per poter scrivere testi musicali e cantarli l'ormai tradizionale banchetto viola civetta per la raccolta firme Fai sarà presente in occasione di ogni evento del cartellone la vecchia estate annunciata dall'assessore Vincenzo Dantò l'iniziativa si è resa possibile grazie alla collaborazione tra gli organizzatori del cartellone e l'associazione La Civetta la raccolta firme per il luogo del cuore Fai è rivolta al sito archeologico di Acque Tauri dopo un paio di settimane nelle quali si era lasciato andare a considerazioni di carattere generale in particolare sulle tante criticità dell'umanità nell'attuale momento storico Pasquino torna ad occuparsi della città e l'anonimo poeta dialettale parla di Civitavecchia osservando con particolare ironia come sia praticamente già iniziata la campagna elettorale in vista delle amministrative della prossima primavera il sonetto si intitola Er turno elettorale sentiamo Come se fosse il giorno del giudizio Er turno elettorale si avvicina è il momento di mettersi in vetrina per chi vocoglie l'attimo provizio chi guarda a destra chi guarda a sinistra ognuno va a cercare la posizione perché lo assicurasse l'elezione nel posto giusto dove si amministra c'è già una pipinara da aspiranti in ogni casa spunta un candidato saranno forse più dell'abitanti e il problema però va valutato non potremo affidarsi ai dilettanti chi governa deve essere preparato va scerto chi è adeguato se il cittadino viene fatto fesso potremmo ritrovarci come adesso e con questo è tutto termina qui questa edizione del nostro telegiornale ma restate con noi perché a breve ci sarà Sportime 24 grazie per l'ascolto auguro a tutti un buon fine settimana ben trovate ad una nuova edizione di Sportime 24 che apriamo parlando di basket è Jonathan Fowles il primo rinforzo della Stemar 90 cestistica Civita Vecchia in vista della prossima stagione praticamente fatta anche per i lunghi manetti e gattesco il servizio la Stemar 90 continua a parlare inglese si chiama Jonathan Fowles 25 anni da compiere a ottobre ala di 1,96 m il primo colpo della Stemar 90 cestistica Civita Vecchia in vista della prossima stagione di Serie C Gold Fowles proviene dal Reading formazione della Serie A2 inglese la stessa categoria dalla quale proveniva Maxwell Morrison ed è stato proprio lo sfortunato centro rosso-nero tuttora convalescente dopo l'intervento chirurgico di ricostruzione della tibia conseguente al colpo di pistola subito da due rapinatori nel corso di una rapina consigliare caldamente l'ingaggio del connazionale Fowles giocatore molto solido ma anche ed utile tecnicamente può ricoprire indistintamente il ruolo di ala piccola e di ala grande sono entusiasta dichiara Fowles della possibilità datami dalla cestistica Civita Vecchia è stato sempre un mio sogno quello di giocare da professionista in Italia sono pronto a dare il massimo e spingere la squadra più in alto possibile soddisfatto del primo acquisto anche l'allenatore Lorenzo Cecchini la scelta del giocatore spiega il tecnico Marchigiano secondo me risulta molto logica visto che il fatto di inserire nel ruolo di quattro un giocatore veloce e fisico ci permetterà di essere competitivi difensivamente sui migliori giocatori del nostro campionato non solo Fowles ad un passo dalla firma anche i lunghi Sebastiano Manetti provenienti dalla stella azzurra Viterbo e Lucio Gattesco Pivò che ha giocato la scorsa stagione con la maglia del Formia per l'ufficialità bisognerà attendere la fine del memory al Mario Romano che in questi giorni sta tenendo occupati giocatori e dirigenti rossoneri stiamo allestando una squadra in modo diverso rispetto alle ultime stagioni commenta il DS Maurizio Campogiani perché vogliamo da una parte acquistare giocatori che conosciamo e da un'altra guardando al mercato stranieri non tanto sul piano delle singole prestazioni del giocatore o sulle sue statistiche quanto sulla compatibilità tecnica e caratteriale con il nostro gruppo in tal senso conclude Campogiani Fowles riteniamo e speriamo possa rispondere al meglio alle esigenze del tecnico e della nostra società che vuole mantenersi ai vertici della Cigold Cambiamo sport e parliamo di vela con il grande risultato per Giulia Faval mondiale giovanile di Nacra 15 in programma Corpus Christi nello stato del Texas L'atleta Civitavecchiesa ha infatti vinto la medaglia d'argento insieme al compagno di equipaggio Andrea Spagnoli i due sono giunti secondi dietro solo alla coppia argentina Roma-Irone cittadini E passiamo alla palla a volo è giunto alle battute conclusive il torneo misto Corsini-La Rosa in corso al Palasport questa sera alle 21.30 ci sarà la finale della manifestazione organizzata dall'Asp a sfidarsi sul parquet di via Barbaranelli saranno Civitella-Cesi e Verdone-Mangiasassi e chiudiamo con il calcio a 5 l'ET di Santa Marinella ha perfezionato l'iscrizione alla campionato di Serie C2 regionale confermato in panchina l'allenatore di Gabriele e gran parte del gruppo della scorsa stagione il direttore sportivo Giacomini è al lavoro per completare la rosa con alcuni innesti tra questi c'è un ritorno quello di Donati Bene, era questa l'ultima notizia di Sportime 24 siamo ai saluti vi ricordo però che adesso ci saranno le informazioni delle meteo grazie per l'attenzione e un buon proseguimento con i nostri programmi